La gente qui è un po' esasperata, mi pare. La gente non trova i posti di lavoro, tutto aumenta. Perché aumenti così consistenti al nord e non al centro-sud, o meglio al sud? L'abitudine, il nord è sempre stato al sud, quindi sono abituato a mungerlo, bisogna ridurre. I sacrifici devono fare tutti, non si può più andare avanti come un tempo. E la Lega cosa può fare? È in Parlamento, è in Regione ed è qui in strada.